Non c'ho sonno. Non c'ho sonno. Non c'ho sonno. Tu c'hai sonno? Ci leggiamo una fiaba prima di dormire? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. La teiera ballerina, antica fiaba giapponese. Era una magnifica notte di luna e un giovane tasso, esaltato da quello splendore argenteo, uscì a ballare nel campo di avena. Saltellava qua e là, accompagnandosi con un'allegra canzoncina, quando, senza saper come, si trovò appeso a una corda. Era una trappola, probabilmente. Il poveretto cercò in tutti i modi di liberarsi, ma non sapeva come fare, e il nodo che lo serrava si stringeva sempre di più. Allora incominciò a piangere amaramente. Proprio in quel momento passò di là uno straccivendolo, il quale vide il tasso e pensò, lo prenderò, così potrò vendere la sua pelliccia. Infatti catturò il tasso e lo sciolse dalla corda, ma si accorse che l'animale era molto giovane e piccolo. Ne ebbe compassione e lo rimise fra l'erba. Si chinò per raccogliere la sua gerla e riprese il cammino, ma proprio in quel momento il tasso si trasformò in una bella teiera e saltò nella gerla senza che l'uomo se ne accorgesse. Ritornato a casa, lo straccivendolo depose la gerla sul pavimento e incominciò a vuotarla per fare la cernica degli stracci raccolti durante la giornata. Ma grande fu il suo stupore quando, proprio in fondo, trovò una piccola e graziosa teiera. E questa da dove viene? Si domandò. Non mi ricordo che qualcuno me l'abbia venduta o regalata. La esaminò e pensò che era troppo bella per lui. La regalerò al bonzo, così si ricorderà di pregare un pochino anche per me, concluse. E infatti il giorno dopo portò la teiera al bonzo. Si chiamano così i monaci buddisti giapponesi, il quale gradì moltissimo il regalo. Anche il bonzo però non osò adoperare la teiera perché gli sembrava troppo bella. Ma un giorno in cui non trovava più la sua, la mise sul fuoco. Subito udì una vocetta che gridava OI! OI! SCOTTA! SCOTTA! E al recipiente spuntarono una testa, quattro zampe e un codino uguali a quelli del tasso. Poi la teiera salto giù dal fornello e andò a collocarsi davanti al povero bonzo. Questi la guardava con gli occhi fuori dalla testa e quando ritrovò un po' di fiato incominciò a gridare UNA TEIRIERA SPIRITATA! UNA TEIRIERA SPIRITATA! Alle sue grida accorsero alcuni suoi giovani aiutanti che si guardavano intorno per vedere che cosa fosse successo. Ma non videro niente di strano. C'era soltanto una teiera che bolliva sul fornello. È stata lei! Balbettò il bonzo indicandola. Quando l'ho messa sul fuoco ha gridato SCOTTA SCOTTA! I ragazzi si scambiarono un'occhiata. Probabilmente il bonzo aveva sognato a occhi aperti. Tuttavia con il manico della scopa provarono a toccare, a stuzzicare la teiera ma essa continuava a bollire allegramente. Infine se ne andarono ma il bonzo, che non voleva correre altri rischi, prese la teiera e la riportò allo straccivendolo. Questi ascoltò lo strano racconto e si riprese la teiera senza commenti. La mise sul tavolino e alla sera andò a letto tranquillamente. Ma si era appena addormentato quando udì una vocina che gridava Signor straccivendolo! Signor straccivendolo! Balzò a sedere sul letto e vide che chi gridava così era proprio la teiera alla quale erano spuntate la testa, le zampette e il codino di un tasso. Buonasera, disse la teiera cortesemente. Non mi riconosci? Io sono quel tasso a cui tu hai salvato la vita e restituito la libertà. Volevo ricompensarti, ma non ho potuto farlo perché tu mi hai regalato. Ora però sono ritornato fra le tue mani. Come vedi io so parlare, ma questo non è tutto. So anche cantare e ballare. Datti da fare, organizza uno spettacolo a pagamento e io danzerò per gli spettatori. Anche lo straccivendolo aveva gli occhi fuori dalla testa per la sorpresa. Si ristropicciò e vide la teiera che danzava sul tavolino con molto garbo. Decise tuttavia di seguire il consiglio della teiera e il mattino dopo preparò un piccolo palco nella piazza più frequentata della città. La gente si fermava incuriosita e domandava Che cosa presenti? Farai ballare l'orso? Meglio, meglio, dei cani, dei pappagallini? Meglio, meglio, farò ballare una teiera. Tutta la gente rise credendo a uno scherzo, ma quando sul palco salì proprio la teiera e incominciò a danzare agilmente con salti e figure di ogni genere. Tutti rimasero muti per lo stupore. La teiera eseguì la danza dell'ombrellino, la danza del ventaglio e danzò anche sulla corda. Poi lo straccivendolo andò in giro con il piattino e poiché le monete fioccavano da tutte le parti L'uomo dovette vuotarlo più volte nelle tasche. Molti gli proposero di vendere la teiera offrendogli di pagarla a peso d'oro, ma lo straccivendolo non accettò. La sera tornò a casa, tanto carico di soldi che quasi non riusciva a camminare. Grazie, amico mio, disse baciando la teiera sul beccuccio. Pochi spettacoli come questi e non avrò più bisogno di lavorare. Io sono pronto, rispose la teiera tasso. Mi piace tanto ballare. E infatti ballò tanto bene che la folla si stipava intorno e da tutte le parti piovevano soldi. Ben presto lo straccivendolo divenne un uomo ricco e disse alla teiera. Mio caro amico tasso, ora basta. Quando balli io tremo sempre per la paura di vederti andare in cento pezzi. Guai se tu cadessi nelle mani di un uomo troppo avido. Ti riporterò al bonzo affinché ti conservi nel tempio. E così fece. Il bonzo, udita tutta la storia, collocò la teiera sopra una ricca mensola. E là essa si trova ancora oggi, riverita e rispettata da tutti. E si dice che danzi soltanto nelle notti di plenilunio. E quando nella pagoda non c'è nessuno. Buonanotte 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 Buonanotte